Questo che cosa determina per il senso? Sarebbe un disastro totale, così per la scuola. La Regione Campania ha chiesto l'autonomia, ma ha proposto un modello che è esattamente il contrario di quello proposto dagli Amici del Nord. Ed è quello del modello ZES, cioè burocrazia zero, ma senza toccare i fondamenti costituzionali di questo paese. Burocrazia zero, ma unità d'Italia. Quindi degli aggettivi causato, paraburti, imbecilli, delinquenti, non se ne rimangia nessuno all'indirizzo del governo? Capisco che erano forse un po' inadeguati rispetto alla gravità dei comportamenti del governo. La prossima volta farò meglio, diciamo. Le ho spiegato, le ho fatto un esempio. Lei quando uno smantella una struttura che funziona benissimo e ne fa un'altra a Roma che non funziona per niente, ecco, questo comportamento come lo definisce? Lei come lo definisce? Da imbecilli. Lei trovi un altro aggetto? Lei come lo definisce? Lei è l' bipore. Lei come lo definisce? Lei è un progete? Indexbra? Lei è un progettoinander. Grazie a tutti.